Quando c'è fame è buono anche il minestrone, in questo caso il minestrone ha tre punti che il Cagliari ha portato a casa al termine forse di una delle peggiori partite giocate in trasferta. Due Cotenne che avevano Grasso che cola e cioè due azioni manovrate in tutta la partita, due sole azioni manovrate in tutta la partita con l'occasione avuta dalla Padula salvata da Caprina nel corso del primo tempo e il gol firmato da Ianco finalmente. Due sole azioni perché per il resto il Cagliari non ha giocato affatto bene ma come si è detto tantissime volte arriveranno quelle gare in cui non giocherai bene e riuscirai a vincere. E' capitato così, mettendo in mostra anche un altro aspetto però che Lempoli, concorrente che sembrava improvvisamente essere diventata una nobile, di fatto nobile non è perché con i suoi difetti, con i suoi limiti, con il suo gioco è andata a incappare in un mancato successo contro il Cagliari ritornando nel bel mezzo della confusione. Insomma la lancia è stata spezzata, ora si è in guerra per tutti per quanto riguarda la lotta per la salvezza, con tanti reduci che il Cagliari deve contare, con tanti acciaccati che non potrà avere a disposizione, l'ultimo dei quali è Zito Luvumbo che si è infortunato nel corso della gara e che si aggiunge a Petagna. Contati i giocatori però alla fine è venuto fuori il carattere, il carattere soprattutto di due o tre uomini che hanno spinto la squadra ad assumere un atteggiamento diverso, un atteggiamento molto più grintoso. Anche dopo l'ennesimo pericolo scampato, un gol che era stato firmato da Cacace e che poi è stato annullato per fuorigioco di Valuchievici in occasione del primo colpo di testa e che ha permesso al Cagliari di capire che se si fosse continuato con lo stesso andazzo si sarebbe rischiato di andare via da Empoli senza punti e toccando con i piedi il profondo dell'inferno. Da lì qualche scintilla e soprattutto un'altra azione nata dal piede di Gaetano, da una palla servita da Gaetano verso il giocatore di destra Zappa in questo caso che è stato abilissimo a superare l'avversario e poi mettere dentro una palla che prima ha calciato Nandes trovando il solito Caprile che non smette di vendicarsi del gol subito da Pavoletti nella partita contro il Bari che ci ha portato in Serie A ma che non nulla ha potuto fare contro Ianco che ha raccolto il pallone e lo ha spedito finalmente dentro. Uno dei giocatori più discussi di questa prima parte di stagione. Insomma ci voleva qualcosa del genere, un bel minestrone dove tutti quei valori che noi conoscevamo non sono stati espressi, dove i giocatori su cui abbiamo contato sempre oggi non c'erano o sono venuti a mancare e alla fine sono venuti fuori altri interpreti, interpreti che ci hanno permesso di ottenere tre punti fondamentali, una vittoria in trasferta peraltro che adesso ci presenta alla gara con la Serenitana con l'opportunità di levarci di dosso un po' di quella cenere e se volete un po' di quella braccia che già scottava alle nostre spalle e che ci vedeva veramente essere quasi dei cadaveri. Siamo apparsi in molti momenti della gara, una gara iniziata troppo lenta con i soliti passaggi, con lanci lunghi, con mai una giocata passando per il centrocampo. Ecco c'è da rimettere ancora tante cose a posto ma se è vero che si diceva nelle settimane precedenti che poteva dipendere dalla testa, che poteva dipendere dall'umore, ci aspettiamo che dopo questa vittoria qualcosa di meglio si possa vedere. Grazie.